Cioè, totale disinteresse sul controllo del territorio. Pensiamo, per esempio, e vado veramente a chiudere, non soltanto con l'Ampedusa, ma quanto è successo con l'Anecline. Vi ricordate quella nave che è andata a fuoco? Sì. Drammaticamente ci sono stati dei morti. Il governo ancora adesso non ci ha dato i numeri dei morti, perché non si sa quanti e quali erano i clandestini. Non sapevamo quanta gente c'era su quella nave. Pensiamo quante navi arrivano, quante navi arrivano anche da Turchia, da Grecia e d'altro, e queste persone arrivano e sono liberi di circolare sul territorio nazionale. non sappiamo da dove vengono, chi sono e cosa vogliono fare.